Il Chelsea è pronto per formalizzare un rilancio per Diusan Vlaovic nell'ambito dell'operazione che porterebbe Lukaku in maglia a bianco e nera, ma attenzione c'è da capire l'entità di questa nuova offerta dei Blues. Dopodiché andiamo a capire cosa è cambiato nel mercato della Juventus con che sì, ad un passo dall'Arabia Saudita, la posizione di McKennie che cambia e anche la percezione di UEA che cambia parte del mercato bianco-nero. Ne parliamo insieme. Eccoci qua amici, bentrovati anche oggi sul mio canale. Vi ringrazio per il seguito che mi mostrate ogni giorno. Grazie per i commenti, per me sono davvero utilissimi per avere una percezione concreta di quella che è l'opinione dei tifosi, quantomeno di quelli che mi seguono sulle varie vicende di casa Juventus. Vi chiedo anche oggi di lasciare il vostro commento sulle notizie che affronteremo. Prima di tutto però like a questo video ovviamente se lo ritenete opportuno e soprattutto attivate la campanella delle notifiche così da rimanere sempre aggiornati alla pubblicazione di nuovi contenuti. Di cronaca dobbiamo parlare sulla cronaca, dobbiamo stare assolutamente anche perché quella che stiamo vivendo è un'estate davvero bizzarra in cui le vicende di mercato cambiano in maniera radicale da una notte all'altra. Così come Milinkovic-Savic, la Juve riteneva di averlo in pugno almeno fino ad un certo punto, anche che si sembra ad un passo dalla Saudi Pro League, il campionato che sta stravolgendo la geografia del calcio internazionale. Perché in Arabia Saudita vogliono alzare il livello del proprio campionato, vogliono farlo diventare nel giro di poco tempo uno dei più prestigiosi al mondo. e stanno entrando a gamba tesa un po' in diversi tavoli della trattativa per giocatori importanti, non giocatori a fine carriera o che vogliono allungarsi il percorso calcistico di qualche anno con stipendi importanti, ma giocatori nel pieno della loro maturità calcistica. L'Arabia Saudita è entrata a gamba tesa anche su che sì che sì che era un obiettivo della Juventus, che insomma vedeva nell'ex Atalanta e Milan le caratteristiche necessarie per alzare il livello del centrocampo attuale della formazione bianconera. Che sì che in realtà aveva mostrato anche qualche resistenza a lasciare il Barcellona pur essendo uno fuori dai piani del club catalano, aveva anche mostrato poca convinzione a ridursi l'ingaggio, questo avrebbe un po' messo in discesa il ritorno in Serie A. Insomma le fasi diplomatiche a questo punto lasciano il tempo che trovano considerato che che sì è diventato un obiettivo dell'Arabia Saudita ed è ad un passo dall'approdare in quel campionato. Cosa cambia nel mercato della Juve? Beh sostanzialmente la Juve in questo momento ha deciso di bloccare McKennie anche perché sono tante le incognite sul reparto mediano bianconero. C'è da capire quale sarà il futuro prossimo di Pogba che sta lavorando, sta continuando a lavorare osservando un programma individuale ma il francese non è ancora a disposizione di Allegri. E anche per questo motivo Pogba che è un'idea dell'Arabia Saudita ha una posizione congelata rispetto a quel tipo di mercato. Sto fermo restando che c'è un qualcosa che dobbiamo tenere d'occhio ovvero il mercato dell'Arabia Saudita chiuderà il 20 settembre quindi in ogni caso ci saranno ancora delle possibilità che si potranno aprire per quei calciatori che insomma interessano ai club dell'Arabia Saudita anche al termine del mercato in Europa. Come sappiamo in Italia il mercato estivo chiude il 31 d'agosto per Pogba che deve mettersi a posto fisicamente potrebbe esserci ancora la possibilità al termine del mercato estivo italiano di ricevere delle offerte importanti dall'Arabia Saudita. La volontà per quelle che sono le indiscrezioni è che Pogba resterebbe un obiettivo dei club dell'Arabia Saudita ma se ne parlerà solo ed esclusivamente quando il giocatore sarà pronto per tornare in campo e non prima. Andando alle altre indicazioni che arrivano in questa fase di mercato dobbiamo assolutamente approfondire i nuovi sviluppi che ci sono sul mercato per la fascia destra perché è vero che la Juventus per diverse settimane ha sondato diversi profili d'esperienza per sostituire idealmente Juan Quadrado ma è altrettanto vero che Timothy Weah ha avuto un impatto importantissimo durante la tournée si è inserito al meglio negli schemi di Massimiliano Allegri, ha la piena fiducia del proprio allenatore, insomma Timothy Weah ha scalato le gerarchie fino a diventare un giocatore con la piena considerazione da attitolare. Questo vuol dire che la Juve avendo già fatto su Timothy Weah un investimento da circa 14 milioni complessivi bonus compresi ecco la Juventus potrebbe pensare di evitare di fare un altro grosso investimento per quella zona del campo andando a valorizzare una risorsa interna. La risorsa interna oggi risponde al nome di Andrea Cambiaso che è piaciuto molto in questa prima parte di stagione e nelle uscite che i bianconeri hanno svolto con Milan e Real Madrid ecco Andrea Cambiaso che l'anno scorso ha giocato in prestito al Bologna e che ha diverse richieste di prestito potrebbe invece rimanere alla Juventus a disposizione di Massimiliano Allegri tra l'altro lui è un ambidestro quindi potrebbe anche occupare la fascia mancina così come abbiamo visto in nazionale e anche in questa primissima fase della stagione. Andiamo alla vicenda Vlaovic, alla vicenda Lukaku perché come sappiamo la Juve su Lukaku ha già fatto tutto almeno sulla carta, ha un accordo con il giocatore, ha anche un'intesa con il Chelsea sulla valutazione dell'attaccante belga sui 40 milioni. Quello che manca è l'accordo sulla valutazione di Vlaovic ecco il Chelsea fin qui non ha mostrato evoluzioni rispetto ad una valutazione di 60 milioni di euro per il centravanti serbo di conseguenza Lukaku più 20 milioni sono troppo pochi per la Juventus che non vorrebbe scendere sotto il muro degli 80 milioni per Vlaovic volendo anche aggiungere a questa cifra qualche altro bonus. Al momento valutazioni in corso in casa Chelsea, quello che sappiamo è che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un rilancio, un rilancio però che potrebbe essere ancora lontano dalle pretese della Juventus perché il Chelsea potrebbe aggiungere sì una decina di milioni complessivi di bonus ma alcuni difficilmente raggiungibili insomma al momento la Juve si ritroverebbe a valutare sul tavolo una proposta che potrebbe al massimo garantire 24-25 milioni, troppo pochi per quelli che vuole realizzare per lasciare andare Vlaovic che tra l'altro lo ha fatto capire in tutti i modi negli ultimi giorni non vuole assolutamente lasciare Torino, non vuole lasciare la Juventus vorrebbe continuare il suo percorso in bianconero che nell'ultimo anno e mezzo non è stato sicuramente dei migliori anche per i problemi fisici che ha avuto a causa della pubalgia si è comunque ripreso, vorrebbe assolutamente lasciare il segno sotto la mole e vorrebbe di conseguenza continuare ad indossare la maglia numero 9 della Juventus Grazie a tutti